Amici buongiorno oggi si inizia con la prima transumanza del 2023 eccoci qua che c'è già il camion Diego Diego Giorgi si sposta al gregge di Luca Dejo ho dovuto prendere il camion perché aveva rientrato le pecore dalla prima nevicata e qua è una zona che poi ci sono tutti i campi coltivati, strade statali, scorrimento veloce quindi le sposta col camion buongiorno Luca si inizia con le transumanze e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti i giorni, mi pare chiuso il sabato, c'è anche il negozio di alimentari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.